Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi. Quest'oggi parliamo, riparliamo anzi, ma in modo più approfondito ancora di igiene dentale con Clinica Favero. In modo particolare qui con noi abbiamo la dottoressa Michela Pedron, che è un igienista dentale. Un capitolo fondamentale che richiede essere anche recepito bene, perché partendo dalla prevenzione, quindi controlli che vengono effettuati anche in occasione della pulizia della bocca, dei denti, quindi l'igiene dentale periodica, che deve essere fatta ogni sei mesi, massimo un anno, adesso la dottoressa ci dirà bene, si prevengono delle patologie anche molto gravi, con delle ripercussioni peraltro a livello organico, globale. Di che cosa parliamo? Parliamo delle malattie parodontali. Si possono curare, come si diagnosticano, qual è il tipo di intervento che può essere fatto, cosa fa l'igienista dentale al riguardo. Sono invasive questo tipo di cure e soprattutto dolorose, questo tanto si chiedono e spaventano non poco. Quali sono le strumentazioni all'avanguardia? Dottoressa, quanta carne al fuoco abbiamo quest'oggi, eh? Molta. Ben arrivata qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, incominciamo un po' a capire. L'igiene orale, cosa vuol dire, come va fatta, da chi? L'igiene orale va fatta domiciliarmente da tutti, da ogni individuo, almeno due volte al giorno, almeno per due minuti ogni volta che si lavano i denti, va passato lo spazzolino, il filo interdentale, cosa che molti trascurano purtroppo, ma perché non tengono conto che generalmente le malattie parodontali iniziano proprio tra un dente e l'altro. E il filo è l'unico modo, o il metodo migliore, diciamo, per prevenire queste malattie parodontali. Va fatta poi a seconda delle necessità, non c'è un termine preciso, ma diciamo, la regola è forse ogni sei mesi, ma i piani di trattamento vanno sviluppati in base alle necessità del paziente. Al tipo di bocca che uno ha, insomma. Al tipo di bocca. Anche la saliva dipende, vero? La genetica incide molto, la causa principale però di qualsiasi malattia parodontale è sempre la scarsa igiene o l'insufficiente igiene, che deve essere fatta, come dicevo, domiciliarmente da ogni paziente e deve essere fatta poi professionalmente da professionisti che fanno questo. E qui le chiedo, intanto a livello domestico, conta la tipologia di dentifricio che uno utilizza? Adesso ci sono questi dentifrici sbiancanti con degli effetti straordinari, eccetera? Sì, oppure diciamo che tutto conta. Se vogliamo possiamo fare l'esempio di pulire un pavimento, non basta gettarci sopra il detersivo, bisogna anche pulirlo con degli strumenti, con degli strofinacci adeguati. Per i denti è la stessa cosa, dobbiamo usare corretti spazzolini, dobbiamo usare corretti dentifrici che possono essere anche sbiancanti, ma devono essere dentifrici sbiancanti che siano adatti alla tipologia del dente. E' inutile voler sbiancare un dente che magari ha delle problematiche dello smalto e quindi è usurato e non andrà mai ad essere sbiancato, non manterrà mai lo sbiancamento perché lo smalto usurato è più poroso se si va ad agire con dentifrici o sostanze troppo abrasive, diventa ancora più poroso e alla fine si ha l'effetto opposto. Direi che sì, i dentifrici sono molto utili, ce ne sono di molto validi, anche in commercio normalmente non è per forza indispensabile prendere dentifrici in farmacia, però devono essere adeguati alle necessità della propria bocca, come gli spazzolini, come il filo interdentale, come gli scovolini, come qualsiasi presidio che viene usato. C'è qualche abitudine che è particolarmente nociva per l'igiene orale che tante persone hanno, che lei riscontra nella pratica quotidiana? Il fumo fa male per tutto, per le malattie parodontali aumenta di molto la percentuale di gravità della suscettibilità di andare a sviluppare malattie parodontali ancora più importanti, di andare a aumentare la gravità della patologia. Però ci sono anche abitudini come bere bevande acide, mangiare cibi più acidi, possono esserci anche delle abitudini come il cattivo spazzolamento, che è una delle cose principali che si vede, cioè l'andare a sfregare troppo energicamente il dente, pur essendo lo smalto del dente la parte più dura del corpo, se va ad essere sfregato continuamente in modo scorretto, anche lo smalto si ritira, si consuma e non ricresce più. Per cui anche questa è una delle abitudini peggiori, i denti vanno lavati ma con la corretta procedura che noi insegniamo. Che voi insegnate, questa è un'altra cosa importante. Normalmente una persona dice vado a farmi l'igiene dentale per togliere il tartaro, il famoso tartaro, sui denti e per darci una sbiancatina, insomma queste sono le due cose fondamentali. Ma non è tutto. No, intanto non viene solo per togliere il tartaro, viene per imparare a tenere in salute la sua bocca, la prima cosa. Quindi sicuramente per togliere il tartaro viene poi istruita all'uso dello spazzolino, del filo interdentale, viene sbiancato il dente, se si può fare, perché lo sbiancamento non può essere fatto su tutto, su tutti i denti, ma alcuni denti devitalizzati, quindi che non sono più vitali, non possono essere sbiancati. Lì bisogna andare a costruire delle protesi, delle capsule, delle faccette. Lo sbiancamento su questo non agisce. E poi bisogna vedere le necessità, se ci sono delle problematiche più serie, non basta solo un'igiene normale, ma bisogna andare a trattare le problematiche che si hanno con della strumentazione più specifica. Tra le problematiche più serie, non auspicabili che possano capitare, c'è la parodontite. La parodontite è una delle malattie parodontali che fa perdere di più in assoluto. La prima causa di perdita dei denti è un'infezione batterica causata. La prima causa di parodontite è la scarsa igiene, quindi la formazione della placca batterica sul dente. Qui vediamo anche le immagini, così ci spiega bene. La prima immagine è il dente sano, dove la gengiva è rosa e ben adesa intorno al dente, fa da sigillo intorno al dente. Nella seconda immagine, dove c'è l'inizio della malattia parodontale, è una semplice gengivite, dovuta generalmente, come dicevo prima, la prima causa è la placca batterica, questa crea un'infiammazione e la gengiva diventa lucida, rossa, gonfia, sanguina e se viene trattata con una corretta igiene domiciliare e una corretta igiene professionale, si può avere la risoluzione del problema senza alcuna conseguenza. Perché è un po' verdino il dente? È la placca che si forma. Ah, si forma anche la placca, quindi? La placca si forma sempre, anche dopo un'ora che si è finito di lavarsi i denti, si crea questo film, questa pellicola intorno al dente che mangiando, che con la saliva, o con normalmente, si matura, diciamo così, e diventa sempre più spessa. Si colonizza di batteri e se non viene rimossa diventa tartaro, quindi una concrescenza dura che lo spazzolino non va più a rimuovere. Ecco, ma come mai ci sono persone che ne hanno di più e altre di meno? Beh, molto dipende dalla manualità, dalla capacità di rimuovere o dalla tecnica che si usa per rimuovere la placca. Chiaramente influisce anche, ci sono altre cause che influiscono, la genetica influisce sicuramente nella formazione più o meno di tartaro e della predisposizione più che altro a sviluppare la malattia parodontale. Quindi c'è una predisposizione a sviluppare questa malattia sostanzialmente. Sì, ci sono anche dei test... Potrebbe essere un fattore genetico? Sì, ma sì, sicuramente ci sono anche dei test genetici e microbiologici per stabilire... Il test microbiologico stabilisce la famiglia di batteri preponderante, per cui poi si può stabilire la giusta terapia. Ecco, l'osso può essere intaccato dalla parodontite? Assolutamente sì, è proprio questo il problema. Quando la gengivite non viene trattata, si toglie questo sigillo che c'è intorno al dente, i batteri penetrano sotto la gengiva andando ad intaccare l'osso. E quindi la stabilità del dente stesso. E quindi la stabilità del dente. L'osso comincia a riassorbirsi andando sempre più vicino all'apice, alla punta del dente, fino a quando c'è la perdita del dente. Quindi c'è un danneggiamento della gengiva, come vediamo, e anche dell'osso del dente. Dell'osso e di tutti i tessuti di sostegno del dente, che non sono solo l'osso, ma anche il legamento parodontale. E qui vediamo proprio il processo graduale che si verifica tra la recessione gengivale e poi la perdita ossea e il dente che comincia a muoversi. A muoversi, sì. È poco sostenuto e quindi comincia a muoversi. Ma il paziente questa sintomatologia la sente perché si ha spesso, già dalla gengivite, cominciano a vedere la gengiva che si gonfia, si è rossa e sanguina. Ma nella parodontite si ha la sensazione di dente più lungo, il dente comincia ad essere mobile, a stadi più avanzati naturalmente, ma si ha anche la sensibilità al caldo e al freddo, si ha una... C'è il sanguinamento, il paziente ha tanto tempo per capire che sta succedendo qualcosa e infatti noi cerchiamo, il nostro obiettivo è proprio quello di far capire al paziente quanto sia importante fare pulizie professionali per prevenire ad arrivare a perdere il dente. Quindi farlo per tempo. Se fatto per tempo, quindi si può evitare anche di incorrere nella situazione estrema, quindi... Esatto, si può prevenire di avere la perdita del dente o dei manufatti che vengono poi costruiti. A che età si può manifestare la parodontite? La parodontite può comparire anche in età giovane, anche da bambini e anche in età giovanile fino anche alla pubertà, colpisce generalmente gli incisivi centrali e i primi molari. Diciamo che parodontiti generali, cioè di tutta la bocca, nei bambini, negli adolescenti, è più difficile da riscontrare, è più rara. Però ci sono dei casi di parodontite giovanile che colpisce i denti, i centrali, i molari e lì è indispensabile istruire i bambini ma anche i genitori, perché i genitori sono l'esempio per i bambini. E quindi ha un certo tipo di pulizia e di controllo? Ha un certo tipo di pulizia, di controllo, di alimentazione. Ecco, ci sono farmaci la cui somministrazione agevola il formarsi della parodontite, per cui magari cambia il pH della saliva, insomma per cui bisogna stare particolarmente attenti, magari far visite più frequenti o far controllare proprio questo? Ci sono dei farmaci che sicuramente provocano delle problematiche nelle gengive, che possono essere ipertrofiche, dei farmaci che creano dei problemi, delle malattie anche che creano dei problemi, sono delle cause concomitanti della malattia parodontale, il diabete è una delle malattie più problematiche. Quindi chi ha il diabete sono tantissimi, anche addirittura i più giovani, attenzione perché c'è il rischio connesso tra le altre cose, anche della parodontite, per cui maggior cautela. E questo è importante far capire che in queste situazioni ancora di più devono fare dei controlli preventivi, devono essere seguiti costantemente e non devono tralasciare la minima sintomatologia. E' vero dottoressa che mangiando, addentando un frutto come la mela, particolarmente se la mela è acerba, si attuano una pulizia in qualche modo dei denti, si evita in qualche modo anche di incorrere in queste situazioni estreme, si fa anche un esercizio fisico e poi nel contempo si rendono più elastiche le gengive, si evita poi tutto questo iter? Sì, io credo, no, sicuramente la mela non danneggia il dente, questo sicuramente no, però non c'è niente di uguale allo spazzolino, anche mangiare una gomma, un chewing gum subito finito. Però ci sono i zuccheri? No, ci sono quelli senza zucchero, quelli senza zucchero si possono mangiare, si può masticare 10 minuti un chewing gum, non andare a masticare poi 6 ore la stessa gomma, ma finito di pranzare, si può mangiare 10 minuti una gomma, aumenta la salivazione che va a detergere, si ricrea un pH normale e quindi si rischia di avere, C'è meno rischio di sviluppare poi la carie e c'è anche una lieve detersione del dente. Perfetto, prima di andare in pubblicità, un secondo solo, per l'impianto c'è un'igiene particolare, che tensione c'è? Per l'impianto c'è la stessa igiene del dente naturale con qualche accortezza in più, perché l'impianto se si ammala la progressione della malattia è molto veloce, più veloce rispetto alla malattia prodontale in un dente. Per i plantite quindi, la perimplantite. Allora parliamo di perimplantite, però lo facciamo subito dopo la pubblicità.